Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, finalmente un nuovo video, J My Life Bene, da oggi ho deciso che finalmente torneranno i video sul Giappone, i video sulla mia vita e i video belli belli bellissimi Allora, che cosa è successo? Devo dire che di ultimo mi ero troppo concentrato su Youtube e quello che magari volevate vedere Perché ho visto che c'erano tanti fan comunque della Corea, del K-Pop eccetera eccetera E mi sembrava carino fare un canale su questo argomento visto che nessuno aveva un canale dedicato in Italia Tuttavia mi sono accorto che mi sono dimenticato o sembrava che mi fossi dimenticato, in realtà non è così Di tutte quelle persone che sono invece iscritte al mio canale perché sono interessate a me, alla mia vita eccetera eccetera E quindi ho deciso in questo sabato di portarvi a vedere una giornata con me Allora, la prima cosa che voglio dirvi è che sto collaborando a questo evento E durante questa giornata che si chiama Italia Amore Mio, organizzatelo alla Camera del Commercio italiana che c'è qui a Tokyo Di solito è sempre un evento grandissimo dove vengono 50.000 persone Sfortunatamente quest'anno, vabbè, l'evento sarà quel che sarà Ma devo dire che si sono tutti impegnati per riuscire a trasformare questo evento in qualcosa di memorabile Anche se le circostanze appunto quest'anno tra Covid eccetera dei 2020 sono difficili Quindi dal momento che c'è tutta questa difficoltà ho deciso di scrivere questa canzone Mi hanno chiesto di partecipare, fare una canzone per questo evento Veramente importante perché infatti c'è anche partecipato Emma Marrone Che tra l'altro l'ho anche incontrata grazie Omega Si terrà il 21 e 22 novembre Vi dico già che sembra una sponsorizzazione ma assolutamente non lo è Anzi, faccio davvero soltanto perché sono innamorato dell'Italia Perché mi piace davvero quello che questo evento sta portando avanti Che è questo senso di unione, specie in un momento difficile come questo Tra l'Italia e il Giappone Tra l'altro questo evento dovrebbe partecipare anche, vediamo un po' qua C'è la lista degli invitati, Cristina Davena, Lapina E poi una serie anche di personaggi famose anche qui in Giappone Io l'ho scritta assieme alla mia grandissima amica Daniela In arte Cobato, veramente talentuosa Con la quale tra l'altro abbiamo collaborato a, oltre a questa canzone Anche una serie di altre canzoni Tutte comunque legate da comunque questo messaggio importante Che è la distanza che c'è tra ognuno di noi Forse è stato quest'anno con il fatto che sono state prese tutte queste misure Che ci hanno forzato a stare distanti l'un l'altre Che ci hanno fatto rendere conto di quanto invece bisognerebbe usare comunque Questa possibilità che abbiamo di vivere Troppo spesso magari per paura di essere rifiutati O per paura di stare male ancora Magari se siete usciti da una storia difficile si fa fatica a aprirsi e tagliare le distanze Bisogna veramente saper percorrere le distanze Perché poi quando si vivono momenti come quelli che stiamo vivendo quest'anno Tutto mette le cose in prospettiva In ogni caso mi hanno dato anche questa maglia dell'evento Che direi di indossarla subito Si non è che cambia molto con il look che ho adesso Però vabbè Spero che vi divertirà passare una giornata con me in Giappone Tra l'altro sta arrivando il tifone Quindi purtroppo sarà una giornata all'insegna della pioggia Peccato perché volevo portarvi a vedere un bellissimo parco Che purtroppo non potrò farvi vedere Ma fa lo stesso Allora siete pronti per passare una giornata con me Benvenuti su questo nuovo video Day in my life in Giappone Ciao Questa è la palestra Ci vediamo dopo essersi allenati Ciao Sto per andare in studio Io ogni volta che vado in studio Mi compro sempre qualcosa di alcolico da bere Eccola qui E dovremmo esserci Se riesco vi faccio vedere il look Vi ricordate prima che stavo girando questo video Con dei capelli perfetti Attraversiamo la strada Ma cosa che bisogna far vedere in questi vlog Che me lo dimentico In realtà c'è un video pronto Che ho registrato sulla penisola di Isu Che non so quando vi farò vedere Però lo monto Bene bene Bentornati alla mano di Seba Che tiene un ombrello Tra l'altro sono tre settimane Che il sabato vado a registrare le canzoni Perché sto per finire il nuovo album Oggi due canzoni in italiano Non ci credo E ogni volta che vengo qui Piove Ma possibile A me il Giappone piace anche con la pioggia Mi ricorda anche quel film Il giardino delle parole un po' Sembra sempre di essere dentro un'anime Quando cammino per il Giappone Proseguiamo con questa avventura Registriamo l'album di Serafini Io di solito registro sempre tutte le mie canzoni Sempre in Germania Però quest'anno devo registrarle in Giappone Quindi tra poco vedrete lo studio Sono qua da solo È un freddo polare Fare questo video Mi sembra di essere con voi Sono sicuro che la gente penserà che sono deficiente Io mi sono già perso Io mi perdo ogni volta che vengo in sto studio Tra l'altro tre settimane Tre settimane che mi perdo Ragazzi ci siamo quasi Mamma mia che pioggia Eccoci qua Vi presento Tetsu Oggi Tetsu ci aiuterà a fare la canzone per La Camera del Commercio Pronti? Ciao 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 sono nel cesso ragazzi è arrivato il momento della cena post registrazioni come potete vedere una cena proprio all'insegna della dieta guardate che mega hamburger che mi mangio e queste patatinazze oh ragazzi seconda cena di oggi mi spiace che non sono riuscito oggi a fare un video day on my life bellissimo ma vi prometto che migliorerò spaziano sei freddo? un po' guardate anche questa focaccia poi scusa vi faccio il day on my life oggi che vado a mangiare italiano la pasta a zuppa buon appetito guardate quanto è grande questo spoon il tiramisu adesso siamo qua a decidere il vestito di Halloween anche se lo faremo in casa in poche persone ma sono tutti da donna siccome non hanno la licenza lo chiamano green cap man e questo è red cap man questo è anche carino come look ciao ciao Grazie a tutti